Oggi introduzione veramente breve perché voglio immediatamente andare a farvi vedere questo grafico, quello di Bitcoin e quello di ETH perché mi interessava anche farvi vedere ETH perché ho tirato giù una serie di target anche di questo movimento rimpassista se dovesse continuare ed era interessante andare a mostrarvi ragazzi anche perché siamo in direttura d'arrivo di alcune strutture cicliche importanti ed è perché no interessante andare a ragionare anche su queste aree di prezzo che possono essere toccate da questo livello allo stesso tempo Bitcoin sta disegnando una struttura ciclica che è interessante e non l'ho divisa nei cicli sottostatti perché volevo farlo insieme a voi quindi lo faremo insieme in questo video andremo a dividere i cicli di Bitcoin e vedremo anche Nasdaq 100 che sta andando in chiusura di un ciclo un po' particolare e una sua struttura che secondo me ci darà risposta appunto se nelle prossime settimane, quindi fino alla fine dell'anno in pratica prima della fine dell'anno, verso ottobre-novembre avremo la possibilità di vedere un ulteriore allungo di Nasdaq 100 dopo che abbiamo visto anche le parole di Powell nel Jackson Hole essere sempre le stesse durissime relative alla questione d'inflazione l'inflazione che non rientra e quindi i tasti di interesse stenteranno in pratica a diminuire certamente non fino al primo quadimestre del prossimo anno ma probabilmente anche sul secondo quindi di riduzione non se ne parla proprio e verranno mantenuti stabili ma addirittura l'ultimo incremento come vi dicevo potrebbe esserci vediamo se non va oggi questo sito, che è successo, diciamo non va, eccolo, forse si ricarica vi faccio vedere un po' quello che è la struttura dei dati della Fed però prima di andare avanti ragazzi iniziamo a vedere quelle che sono le news della settimana in questione intanto che carica questo sito che è successo non si sa vabbè, allora andiamo a vedere quelli che sono le news da attendere secondo me una news importante, il PIL per quanto riguarda mercoledì 30 di agosto che attenzione ragazzi, incredibile, ma vero con tassi altissimi come questi più alti degli ultimi 20 anni è previsto in aumento, PIL in aumento per quanto riguarda gli Stati Uniti ve lo ripeto PIL in aumento ragazzi questo vi fa capire anche come, forse negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno lavorato in maniera estremamente intelligente sulla loro economia negli ultimi 15 anni ricordatevi che tutte le manovre di politica economica, di macroeconomia hanno un impatto sulla vita, sulla quotidianità dopo N anni ragazzi nessuna manovra di natura politica ha un impatto nell'immediato servono almeno 2-3 anni per avere impatti importanti quindi queste probabilmente sono i risultati di decenni di politica fatta bene ragazzi fatta per la crescita ovviamente poi ognuno ha le proprie opinioni ma soprattutto fatta bene in termini di crescita e di prodotto interno all'ordo poi magari alcuni non condividono magari questa sfrenata ricerca della crescita eccetera ma quelle sono ideologie sono ragionamenti di altra natura però per quanto riguarda l'analisi di questi dati sicuramente hanno lavorato benissimo tassi di interesse al di fuori di quella che era una secolare fase di tassi zero che erano qualcuno di voi ce lo ricorda sempre ingestibili assolutamente i tassi zero no adesso i tassi sono alti adesso sono ingestibili i tassi alti quante quante barzellette tassi zero sono molto più ingestibili dei tassi alti ragazzi per il sistema economico e soprattutto non vanno bene magari in maniera molto alta questo è vero per il debito pubblico però per il sistema economico in generale le banche anche eccetera sono meglio i tassi alti che i tassi bassi ragazzi non vi ricordate per il consumatore un po' meno allora mercoledì 30 agosto 2 e 4 previsto il PIL in aumento vediamo che cosa succede abbiamo l'IPC tasso di inflazione dell'Europa al 5,1 leggermente inferiore Europa ancora nel piena morsa dell'inflazione un po' abbandonata a se stessa per diversi motivi politiche europee inconsistenti da anni e anni che hanno subito un po' quello che è stato appunto la pressione degli Stati Uniti decisioni comunitarie un po' diciamo che lasciano il un po' diciamo il tempo che trovano perché non sono state positive ma soprattutto anche l'Italia che poi è andata addirittura anche peggio dell'Europa ce ne vuole insomma però diciamo sono periodi secondo me quegli ultimi 15-20 anni del continente europeo che si potrebbero sicuramente riscrivere secondo altri canoni altri termini comunque ancora inflazione alta per l'Europa ma sicuramente questo è un dato che non avrà influenza in termini di di volatilità e anche relativa alla questione della richiesta dei sussidi di disoccupazione non vedo particolari movimenti perché la stagione di giovedì 235 mila addirittura i sussidi di richiesti leggero rialzo non ci sono grandi aspettative l'ISM che forse è l'unica cosa che potremmo andare a guardare è in linea con il dato precedente e poi c'è il tasso di disoccupazione degli stati uniti ancora troppo basso sembra strano lo dico troppo basso vabbè allora detto questo intanto vediamo se mi ha caricato quel grafico si l'ha caricato allora andiamo a vedere che non è cambiata la decisione dei tassi ovviamente 20% 80% non saranno alzati il 20 settembre prossimo 20% invece saranno alzati vediamo cosa succederà le monitoreremo anche questa base allora Bitcoin dopo lo scrollone dei giorni scorsi non si è più ripreso questo perché probabilmente si è riassettato quello che era un nuovo dato relativo al fatto del tasso di interesse quindi in anticipo perché i mercati si muovono in anticipo ragazzi perché i mercati dipendono dal flusso delle informazioni se voi avete un flusso delle informazioni mi piace infatti farvi vedere che la penna dell'hard rock si vede non metti a poco la penna dell'hard rock vieni storia vabbè non i ragazzi di hard rock crypto a proposito saluti a tutti i ragazzi di hard rock crypto ma è una penna di hard rock vabbè allora i mercati si assestano a un flusso di informazioni prima ragazzi che quel flusso di informazioni arrivi a noi comuni mortali diciamo così perché quando è arrivato a noi è tardi quindi chi sa le informazioni prima agisce prima e c'è sempre qualcuno che le sa prima le famose balene gli squali quelle che volete voi e agiscono prima ragazzi a quel punto i prezzi si modificano prima probabilmente sul settore delle crypto ancora estremamente poco regolamentato questa cosa è ancora più visibile e secondo me l'atteggiamento di bitcoin di questi giorni era proprio relativo al fatto che con grande probabilità il mercato ha scontato la possibilità che i tassi di interesse non vedano neanche l'ombra di una possibile riduzione nei prossimi mesi fino almeno dopo il primo quadrimestre del 2024 e probabilmente ha dovuto riassestarsi a un prezzo diverso questo da un punto di vista macro fondamentale se dovessimo analizzare i dati da lì non si è più ripreso c'è anche però una questione legata da un punto di vista tecnico ci sono due indicazioni tecniche la perdita di determinati livelli di supporto e poi il raggiungimento di un palese doppio massimo che è una figurazione che per il mercato delle crypto è pericolosissima il breakout infatti di questo livello configurerebbe un'inversione di trend di medio periodo in un bear market che ancora non è stato ampiamente recuperato cioè decentemente recuperato scusate il termine corretto è decentemente recuperato da bitcoin dovevamo arrivare almeno a 42 per avere un rialzo accettabile di recupero di questa fase ribassista quindi almeno in questa zona non è stato minimamente toccato questa è un'area pericolosissima quindi questa cosa va tenuta sotto stretta osservazione c'è una media che io vi ho messo in questo caso poi andiamo a fare la ciclica poi vi ricordo la questione di ethereum ragazzi non vi perdete la questione di ethereum perché ethereum ha anche dei cicli interessanti che possono influire molto sulle cripto in generale quindi se siete amanti per esempio degli investimenti e del trading su criptovalute che sono come ethereum e quindi insomma non sono bitcoin allora può essere veramente interessante questa cosa anche per voi a proposito del fatto se siete trader vi ricordo gli ultimi due giorni per aderire alla promo di coincollar ragazzi con il bonus di benvenuto stanno iniziando a cercare di creare volumi su questo exchange ci hanno regalato una promo con 60 dollari usdt che potete avere tra le altre cose senza che voi si questa volta ve li danno senza che voi si io mi sono informato ho richiesto speriamo che non tengono le promesse allora basta iscriversi dal link che vi lascio in descrizione gli step per avere questi dollaroni gratis sono depositare oltre 100 dollari in tether vi ricordo che non si possono depositare euro su questo exchange perché ancora è piccolo non ha i depositi in valute fiat ha soltanto cripto ed è un exchange solo in questo momento di derivati e ve lo ricordo ragazzi quindi per trader di un certo tipo quindi netto deposito di 100 dollari poi si diceva appunto 5 usdt volume di trading quindi fate un'operazione in cina di trading per tradare 1000 dollari ovviamente in questo caso potete utilizzare la leva tanto fate l'operazione open e chiusura immediata quindi diciamo vi serve solo per prendere i soldoni e il bonus di benvenuto se fate per 10.000 dollari 50 dollari ovviamente se in pratica mettete 1000 dollari per intenderci i tether e fate una sold trade di mezzo bitcoin prendete tutti i 60 dollari aprite chiudete e portate a casa allora vi lascio il link in descrizione per testare l'exchange ve lo ricordo non mettete tanta liquidità su exchange ancora troppo giovani provate a fare il test dell'exchange e andate a vedere come funziona tra le altre cose vi faccio vedere qui per esempio in questo momento la oscillazione la fluttuazione anche a grafico a 5 minuti i volumi sono ancora bassi sono un po' aumentati però ancora tendenzialmente bassi quindi vedete qui io volessi fare un'operazione in questo momento di sell di sell short potrei decidere di fare un sell short in questo momento andando a cliccare qui mi da l'impostazione facciamolo proprio vediamo che mi dice penso che non dobbiamo avere il balance è vero si ragazzi non ho il balance perché ho messo un bitcoin un po' tanto per un esempio va bene basta andare a fare questo tipo di trade open close veloce per il bonus allora detto questo passiamo alla questione legata alla divisione ciclica che vi abbiamo promesso da fare insieme per quanto riguarda bitcoin allora la questione che mi premeva era questa cioè farvi vedere che questa media mobile a 200 periodi a 200 settimane è stata breccata c'è anche la 274 una media che io adoro qualcuno di voi si ricorda un mio vecchio video dove insegnavo un po' più o meno facevo riflettere per lo più sulla importanza di dire che bitcoin dovrebbe seguire un po' una media differente rispetto a quella a 200 periodi questa cosa sta avvenendo un po' meno nell'ultimo anno perché i sabati e domeniche diventano quasi sempre più inutili quindi sta avvenendo un po' meno però detto questo la media mobile a 200 è stata breccata non è un buon segnale assolutamente anche eventuali fasi di rialzo di bitcoin si scontrerebbero con questa massiccia zona di resistenza in questa zona qui che siamo intorno a quota 27.000 e qualcosa quindi non è neanche tanto ed 27.000 e 3 quindi dei rialzi che si scontrano qui e insomma impattano in maniera radicale allora la questione è molto semplice qui per invertire questo trend ci vuole tanta tanta forza del mercato bisogna assistere a un espluato come quello che è stato fatto qui in queste zone prima riavvicinarsi qui eccetera qui questa volta però abbiamo anche la questione delle medie mobile che a livello di analisi tecnica pungono da spartiacque appunto da medie che possono in effetti impattare in maniera estremamente negativa come resistenza allora qui la divisione ciclica è un po' particolare su questi oscillazioni questi vedete diciamo elettrocardiogrammi del mercato non trend chiamiamoli così rumori di fondo per i tecnici che amano la precisione sulla definizione i bitcoin non ha dei cicli definibili in maniera univoca poi la struttura dell'analisi ciclica consente sempre di trovare soluzioni nella divisione ciclica il problema è che non abbiamo un'idea effettiva che quella sia una soluzione corretta quindi la mia opinione contro la tua non è una univocità del mercato quindi non serve secondo me a quel punto ragionare per partito preso e dire ah questa è giusta l'altra no serve andare a comprendere concettualmente quello che il mercato ci sta un po' comunicando cioè questa zona in quest'area qui è sicuramente una zona di una metà di questa struttura ciclica complessiva perché il mercato ha fatto ha cincischiato poi ha fatto delle close vedete che erano un po' questa era una close più bassa qui ha chiuso un ciclo ha superato il massimo con questa shadow realzista anche una close un po' accettabile anche se è di poco superiore ai massimi quindi in questa su questo minimo in questa zona qui che poi se guardiamo in close è un po' più avanti quindi sostanzialmente in quest'area è stato chiuso un ciclo io direi che va considerato in questa zona a metà perché appunto vi ripeto non c'è una univocità quindi un ciclo intorno ai 47 giorni dovrebbe essere configurabile come due cicli mensili uno molto corti quindi uno da 21 e poi il successivo se lo consideriamo qui da 21 pure e ovviamente 31 scusate ve lo faccio vedere così e ovviamente la struttura se la consideriamo un po' a metà è un po' di meno 25 in 6 niente di anomalo qui la partenza di questo ciclo mensile che è virato immediatamente a ribasso non lascia scampo ancora a bitcoin che teoricamente dovrebbe ancora fare un nuovo minimo minimo che poi è stato fatto su questa shadow della giornata del 22 di agosto sui prezzi di bitstamp bitfinex li ha prima binance non li ha insomma questo per il problema legato appunto al fatto che i prezzi di bitcoin sullo spot non sono regolamentati sembrerebbe proprio che in questa zona sia iniziato in effetti un altro ciclo da due settimane di bitcoin che dovrebbe coincidere con la chiusura anche di un ciclo trimestrale di bitcoin che a quel punto potrebbe essere indicato e quindi centrato così si dice a livello ciclico intorno alla settimana prossima 6 mercoledì 6 di settembre ora solo una ripresa di un ciclo trimestrale potrebbe in effetti innescare su bitcoin un tentativo di recupero quindi in teoria questa oggi è 28 quindi 28 29 30 31 di agosto è il no il 30 è mercoledì quindi faremo una settimana più tre giorni circa nove giorni più o meno ragazzi ok quindi nove giorni di tempo fino a questo mercoledì 6 servono e sono necessari per portare a compimento tutta questa cosa quindi chiudere sostanzialmente questa struttura ciclica di bitcoin ora nove giorni sono anche pochi ragazzi quindi può fare finta il mercato può tentare di accelerare e imbrogliare quindi tentare magari di fare dei fake break così puoi andare a fare una lingua di buyer per chiudere sicuramente questa sarà una zona che bisogna attenzionare io dal mio punto di vista il prossimo ciclo trimestrale di bitcoin tenterò di tradarlo long da questa zona in poi vi avevo detto che avrei aspettato questa settimana e non fatto nulla settimana scorsa aspetterò ancora almeno intorno al giovedì di questa settimana prima di fare qualche operazione quindi a prescindere ancora per questi giorni non farò nulla a prescindere perché a livello ciclico non mi sento in veste di queste cose a parte i sistemi automatici che se entreranno ovviamente long a quel punto li seguirò per una questione tecnica oggettiva detto questo la attesa è in questi nove giorni nove giorni che secondo me potrebbero essere interessanti e preparatori vi faccio vedere però come promesso il grafico di eth che da un punto di vista di trading potrebbe essere interessante andarlo a comprendere allora io qui vi ho inserito due livelli di target che corrispondono a dei livelli di fibonacci calcolati dal minimo di partenza del teorico ciclo annuale di eth che inizierebbe in teoria a giugno 2022 è il massimo quindi queste strutture apportano due target di ribasso 1.562 1.435 prezzi bitkinex questi livelli di target sono dei livelli raggiungibili se il ciclo annuale di bitcoin di ethereum scusate ancora deve chiudersi e deve farlo in breve perché la prima ipotesi cioè l'ipotesi che a giugno sia iniziato un ciclo annuale di eth e che abbia fatto un movimento a3 con una prima struttura in questo modo facendo una specie doppio minimo nella chiusura del ciclo annuale di bitcoin poi una struttura macro così e poi il finale in questo modo quindi tre cicli sottostanti di cui il centrale è estremamente lungo il finale molto corto se fa una cosa del genere può chiudere il ciclo annuale a breve cioè intorno anche a ottobre del 2023 questa cosa ovviamente è una cosa assolutamente importante perché nel momento in cui dovesse poi effettivamente chiudere un ciclo del genere a ottobre inizierebbe un nuovo ciclo annuale ragazzi ciclo annuale che uno spunto rialzista lo dà quindi attenzione alle altcoin ve l'ho già specificato nel video precedente dove parlavo di quelle che erano quelle che stavo attenzionando un matic bnb anche th in questo caso io attenziono solo crypto ragazzi ad alta capitalizzazione non mi piace essere scammato insomma dalle microcrypto poi il trading è un'altra cosa io sul canale non parlo di criptovalute che non conosco e che non hanno anni di vita alle spalle questo l'ho spiegato 20 volte anche se ne parliamo magari di altre crypto che ogni tanto avete fatto qualche domanda negli anni scorsi magari si è parlato anche di crypto più piccole ricordatevi che per investire su quelle dovete essere estremamente prudenziali ma poi soprattutto io non lo faccio questo ve lo dico per capire così insomma non lo devo dire ogni volta io investo solo nelle crypto che sono fortemente capitalizzate e hanno anni di storia alle spalle detto questo la questione di questo ciclo di eth e th sta disegnando un trimestrale quindi una sottociclica trimestrale anche lei difficile nella sua scomposizione dei cicli mensili probabilmente creata in questo modo ora qui troppo presto dovrebbe andare a chiudere naturalmente il suo ciclo trimestrale intorno alla prossima settimana fine della prossima settimana dal 6 all'11 settembre in pratica 16 settembre chiuderemo i cicli nella prossima settimana dovremmo chiudere i cicli trimestrali potremmo chiudere i cicli trimestrali di bitcoin ma anche di eth e se th dovesse effettivamente arrivare a questi target il primo l'ha già raggiunto un 1562 però non ci ha chiuso vicino ha chiuso molto sopra quindi dovesse iniziare a scendere di solito fanno così quindi prima swipe al ribasso poi presa e recupero dopodiché lenta discesa più laterale in questo modo dovesse chiudere in questa zona vi ho dato il target di prezzo vi ho dato un livello temporale tenetela in considerazione oh mi raccomando ragazzi io lo dico e lo ripeto ogni volta quindi diciamo accettatemi non è un buy the dip ma è un'area dove io attenziono quella cripto e poi se inverte il trend vado magari in posizione long se inverte il trend ve lo ripeto se inverte il trend altrimenti no perché io sono trend follower va bene ragazzi trend follower e questo significa che anche se faccio le mie analisi non vado a comprare in dip imparate a non comprare i minimi imparate a non comprare i minimi è una tecnica che è disarmante da un punto di vista psicologico vi rovina da un punto di vista emotivo non è giusta da fare non dovete farla neanche se li prendete li dovete fare perché dovete abituare la vostra mente a non ragionare guardando quelle cose un po' sopra il minimo non proprio il minimo un tic sopra se diceva così va bene detto questo vi ho indicato temporalmente dei livelli importanti per questa settimana e anche a livello di pricing cosa ne pensate lancio della moneta vediamo cosa pensa la mia moneta è uscita una bella B quindi teoricamente non funziona da un po' di tempo io non lo sento va bene ciao ragazzi